A Mosca il presidente Vladimir Putin ha partecipato a una riunione del Consiglio della Procura Generale della Federazione Russa. Putin ha sottolineato che gli investigatori del servizio di sicurezza e altri servizi di intelligence stanno accertando attentamente le circostanze di questo barbaro crimine. Al riguardo il direttore del servizio di sicurezza Alexander Bortnikov ha dichiarato che l'attacco terroristico di Crocus perpetrato dagli islamici radicali è stato facilitato e preparato dai servizi speciali ucraini con l'aiuto dei servizi segreti di paesi occidentali. La portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zaharova, ha definito in morali le parole del rappresentante della Casa Bianca John Kirby che ha dichiarato che gli Stati Uniti non intendono fornire assistenza in materia di sicurezza alla Russia dopo l'attacco terroristico. Invece, come ha notato anche la Zaharova, gli Stati Uniti stanno cercando attivamente di convincere la opinione pubblica mondiale che in questa tragedia non c'è traccia di Kiev. Dei soldati feriti nell'operazione militare speciale sono stati premiati con medaglie per il coraggio presso l'ospedale militare Mandrick di Mosca. I militari sono anche stati destinati a nuovi incarichi in istituti educativi, uffici amministrativi e in centri di arruolamento militare. L'Alta Corte di Londra ha permesso Julian Assange di contestare nuovamente la decisione di estradarlo negli Stati Uniti. La prossima udienza si terrà non prima del 20 maggio. Nello Stato americano del Maryland è crollato un ponte stradale lungo due chilometri e mezzo che collegava le parti occidentale e orientale della città di Valtimora. L'incidente è avvenuto dopo che una nave portacontainer si è schiantata contro uno dei supporti del ponte. Una persona è morta e si teme che altre sei persone siano ancora disperse. Un gruppo di 150 bambini provenienti dalle zone più pericolose di Belgorod è arrivato alla regione di Astrakhan. Sono stati accolti da insegnanti, consulenti e volontari. Avrete l'opportunità di studiare e di rilassarvi. Faremo di tutto perché vi sentiate a vostro agio, ha detto il governatore della regione di Astrakhan, Igor Babushkin.